Mostre, tavole rotonde, incontri con gli studenti delle superiori e delle università. Rimini celebra Michel Butor e Butor non si risparmia nella maratona a lui dedicata, dove disquisisce a lungo sul ruolo della scrittura e dell'immagine. È un incontro tra generazioni, artefice dell'evento Isabella Bordoni. Abbiamo lavorato per un anno per raggiungere questo risultato ed è bellissimo vedere questo incontro tra generazioni, tra un grande della letteratura e del pensiero dell'arte e della critica del Novecento e questi giovani studenti delle scuole superiori. Nonostante Butor abbia sperimentato ogni tipo di inserimento della scrittura nell'immagine, fondamentali i suoi libri d'artista in mostra al Museo della Città, il linguaggio è al centro del suo percorso artistico. La scrittura vincerà sempre perché il linguaggio è qualcosa di fondamentale e ogni cosa che ha a che fare con il linguaggio avrà sempre la meglio.